Ieri ha avuto inizio, presso il cortile della Fondazione Bufalino a Comiso, la Festa dell'Unità, manifestazione di politica, musica e spettacolo, organizzata tradizionalmente dal PD casmeneo. Dopo qualche anno di pausa si ritorna con momenti importanti di dibattito, confronto e condivisione. Quest'anno l'impegno dei dirigenti del PD è stato particolarmente di peso, considerando la quantità e la qualità dei vari incontri politici, per non parlare delle varie attività di intrattenimento. Ritorna a Comiso la Festa dell'Unità, quest'anno siamo in Pinacoteca, in un allestimento nuovo, insomma un allestimento anche originale, in un luogo magico che è il luogo della Fondazione Bufalino. Il PD torna qui con temi molto importanti, parleremo ovviamente di Comiso, perché è la festa della quale vogliamo parlare di come riaccendere questa città che ci sembra spenta e che vada un po' indietro. Parleremo naturalmente di problemi del lavoro, parleremo di problemi di sviluppo, parleremo delle infrastrutture, parleremo dell'aeroporto. Insomma una serie di importanti argomenti e poi non mancheranno i momenti ludici, quindi momenti di divertimento, quindi concerti, scuole di danza, ma anche straordinarie sorprese. Quindi vi invitiamo a partecipare da giovedì, quindi 10, fino a domenica 13, con l'ultimo bellissimo concerto della Cover Depot. Ed eccoci alla festa democratica del 2019. In verità ci siamo presi qualche anno sabbatico, perché per circa un paio d'anni non ci siamo ritrovati a celebrare invece questo momento di autentica unità, unità di intenti, unità di idee, unità politica, unità della politica con la società civile. Si svolgeranno dibattiti importantissimi che parlano di lavoro, che parlano di buona politica e nel frattempo ci saranno anche spettacoli, fatti soprattutto da persone della nostra città o al più delle città limitrofe, per intrattenere in questo momento di festa i comisani e non solo. Si sentiva bisogno di questo PD in questa fase, come dire, rediviva, una fase in cui ritorna ad essere sia pure con un ruolo diverso, visto che siamo all'opposizione, ma tuttavia protagonisti della vita to court di comise e dei comisani. Ieri sera alle ore 18 l'apertura con un importante dibattito sul lavoro e nuova occupazione. Io ringrazio gli amici che mi hanno invitato a questa iniziativa, iniziative molto importanti quando si parla di lavoro, di sviluppo, di uscita dalla crisi, una crisi profonda dove noi ci ritroviamo. E per quanto riguarda il mio ruolo, scuola, formazione, è guardare il futuro. I temi che io cercherò di trattare oggi penso siano poi lo sviluppo di quello che sta mettendo in campo, dovrà mettere in campo il governo nazionale, speriamo cominci a mettere in campo anche il governo regionale. Se noi parliamo di scuola, di formazione, di innovazione, di ricerca, noi cominciamo a mettere in campo una nuova classe di lavoratori in Sicilia, con la speranza che poi si crei il lavoro e questi lavoratori restino in Sicilia, questi ragazzi restino in Sicilia e non vadano fuori. Dobbiamo probabilmente modificare anche il sistema di alternanza scuola-lavoro, soprattutto nelle nostre zone, zone dove il lavoro si svolge prevalentemente in estate, o almeno vorremmo si svolga in estate, quello del turismo. Se io l'alternanza scuola-lavoro la programmo invece ad aprile, a maggio, quando non c'è turismo, nei locali non andrebbe nessuno, negli alberghi non andrebbe nessuno di questi ragazzi. Per cui la scuola deve convincersi di far fare alternanza scuola-lavoro a questi ragazzi nel periodo estivo. Loro probabilmente toccherebbero il lavoro e poi probabilmente questi ragazzi domani possono rimanere in azienda, possano lavorare. Si deve mettere in campo l'ITS, l'Istituzione Tecnico Superiore, che nel resto d'Italia dà una media di occupazione post attestazione di due o tre anni, all'80% dei ragazzi che escono e che a Raguse è arrivata solamente mercoledì scorso l'istituzione dell'Istituto Tecnico Superiore, per cui dobbiamo accelerare, dobbiamo correre per cercare di andare a presso a questa cosa qua. E' il supporto di averlo fatto all'Istituto Aeronautico, per cui vicino a una sede aeroportuale, che deve svilupparsi in un modo bivalente, a mio parere, cargo e turismo, perché altrimenti questo territorio non riuscirà mai a competere con Catania. E solo se noi facciamo cargo qui riusciremo a far uscire tutti i prodotti che l'agricoltura può dare dopo che il turista è stato qua e comprerà poi i prodotti che qui ha assaggiato, ha assaporato e ha gustato. Probabilmente questo creerà occupazione, per cui l'ITS deve accelerare i percorsi, la Regione deve decidersi di fare nuova formazione, quella degli FP che recuperi tutti i NIT, così non avremo più NIT o almeno abbasseremo tantissimo la percentuale dei NIT, recupereremo i ragazzi, li metteremo nel mercato. Il Cedifop, che è un'associazione europea di statistiche sulla formazione, dice che il 70% degli europei ci crede, il 40% solo degli italiani crede che cosa è l'IFP. Se io dovessi fare la valutazione sulla Sicilia mi preoccuperei in percentuali ancora a sua volta dimezzate. Per cui tanta è la sfida che deve fare il mondo della scuola e della formazione per poter dare formazione ai ragazzi, creare anche autoimpiego, ma il resto lo devono fare gli altri partner seduti oggi al tavolo con noi.